Lega i bracci, devi appoggiare, legate i bracci, devi appoggiare, tieni, fili il gomito quando hai l'extracchi, il tuo vomito, si, non dardelo, quando tu hai l'extracchi, il tuo vomito, lavorate gli acchi, tranquillo, alza un po' la testa, ok? Lavorate gli acchi, tranquillo, devi appoggiare troppo, alza un po' la testa, attenzione, presto, 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 lavorate gli acchi, continua, continua gli acchi, lavorate, lavorate, cercalo, cercalo, riprevo il braccio, e, lavorate, hai chiamato la mia massimità, non importa, lavorate gli acchi, devi aumentare, via, via, riprevo il braccio, lavora, riprevo il braccio, lavora, così, lavorate gli acchi, aumenta, aumenta, aumenta gli acchi, vai, 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 adesso è importante, adesso è importante gli acchi, muovilo, 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 muovilo gli acchi, la piscina è della zona, la piscina, continua a lavorare, non ti fermate, continua a lavorare gli acchi, lavora te gli acchi, lavora te che ti sta chiamando la massimità, un punto a lui gli acchi, un punto a lui devi lavorare te adesso, andiamo, devi lavorare te gli acchi, non ti fermare, aumenta, aumenta gli acchi, devi fargli dare la massimità a lui adesso, devi fargli dare la massimità a lui, lavorare te gli acchi, lavora te gli acchi, lavora te gli acchi, lavorare te gli acchi, che non ti ferma a 40 secondi, non ti fermare, stai con posto, non ti fermare, devi continuare a lavorare, stai al centro, stai al centro, 20 secondi, 20 secondi, non fai provare a entrare col braccio, 15, dai la Iaco, 30 secondi, concentrato, 5, vai la, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 5, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti